Se desideri iniziare una professione in ambito olistico con il respiro o se lavori già nella relazione di aiuto come psicologo, counselor e desideri aggiungere le potenzialità del respiro alla tua figura professionale, il corso di Rebirthing Evolutivo può fare al caso tuo. Mi chiamo Cristiano e lavoro da oltre 20 anni come operatore di Rebirthing e counselor. Ho accompagnato diverse centinaia di persone nella pratica del respiro circolare e creato un mio personale approccio a questa tecnica con il nome di Rebirthing Evolutivo su cui ho scritto il libro omonimo edito dalla macroedizione. Da diversi anni propongo una scuola di Rebirthing Evolutivo che è un corso professionale personalizzato per diventare operatori di Rebirthing. Pur facendo questo lavoro da tanto tempo ancora mi meraviglio del potere terapeutico e trasformativo del respiro circolare. Penso che oggi più che mai in questi tempi e in questa società la pratica del Rebirthing sia uno strumento fondamentale per aiutare la persona a ritrovare benessere ed iniziare un cammino di evoluzione interiore. Se anche tu desideri diffondere questa tecnica ti seguirò personalmente in un percorso professionale e condividerò con te la mia esperienza affinché tu possa accompagnare altre persone con la pratica del Rebirthing. Come si svolge il corso? Prima di tutto faremo un incontro online o in presenza per conoscerci e valutare se ci sono le condizioni giuste per fare questo tipo di percorso. Prima di iniziare è necessario che tu conosca la tecnica e se non l'hai mai fatta dovrai sperimentarla di persona. Dopodiché quando sarai pronto faremo un ciclo di incontri in presenza dove ti farò provare varie modalità di respiro circolare e ti spiegherò nei dettagli come seguire una sessione individuale del Rebirthing, il setting, come gestire le varie reazioni fisiche ed emotive, i tempi del respiro, il colloquio finale e tutto ciò che serve per fare al meglio questa professione. Dopo il ciclo di incontri in presenza potrai iniziare a far respirare altre persone ed io continuerò a seguirti attraverso incontri online di supervisione. Il mio obiettivo è quello di creare una rete in tutta Italia di operatori esperti che possano diffondere a più persone possibili questa speciale tecnica di autoguarigione e trasformazione interiore. Se desideri fare parte di questo progetto o se hai domande sul programma, sulla struttura e la durata del corso puoi visitare il mio sito o contattarmi personalmente. Un caro saluto.